Professor Burioni, più chiari di così... Io non sono Biden ma anch'io ho fatto la terza dose. Sì, beh, certo. Una decina di giorni fa, il giovedì mi sembra, domenica ero qui. Vabbè, però lei non fa il Presidente di Stati per ora, come sanitario. Allora, lei, insomma, abbiamo detto tante cose, i dati di Trieste di questi giorni, secondo me, devono indurre molte riflessioni, secondo me, qualcuno, non lo so, sta pensando all'obbligatorietà del vaccino, secondo lei, professore? È una scelta politica. Io sono un po' pessimista perché ho la sensazione che convincere chi non si è vaccinato a questo punto sarà molto difficile e i numeri, purtroppo, ci danno ragione perché le prime dosi sono calate drammaticamente. Si fanno poco più di 20.000 prime dosi al giorno e abbiamo, appunto, sicuramente molto più di 7 milioni di persone da vaccinare. Lasciamo alla politica le sue decisioni. Professore, questa pandemia però ci ha mostrato come anche le evidenze scientifiche possono essere messe in discussione dalla sicurezza dei vaccini alla pericolosità del virus e hanno messo persino in dubbio, a volte, alcuni, il più triste e inequivocabile dato, quello dei decessi. E su questo tema l'ascoltiamo. Grazie. Questa sera cominciamo con un numero. Un numero che è 3.783. Che cos'è questo numero? Questo numero è quello dei morti per la pandemia, secondo una narrazione, diciamo, antiscientifica, totalmente irreale, che è stata purtroppo fatta propria da, non solo da alcune persone che protestano contro i vaccini, ma anche, ahimè, da mezze di informazione. Questo numero purtroppo non è vero. E io dico purtroppo perché se fosse vero tante persone sarebbero ancora con noi. Se fosse vero ci sarebbero stati meno lutti. E quindi sarebbe stato molto meglio. E invece purtroppo questo numero non è vero. E questa sera vi spieghiamo perché. Lasciamo perdere il Covid, lasciamo perdere i virus, lasciamo perdere l'immunità per una sera. E andiamo a guardare i numeri, numeri inoppugnabili, numeri che parlano in un modo che non può essere frainteso. Parliamo di due mesi, marzo e aprile. Negli anni precedenti al 2020, in Lombardia, morivano in media circa 16.600 persone. Nel 2020 ne sono morte 43.000, quasi tre volte tanto. E' sparita una città delle dimensioni di Lodi in Lombardia. Che cosa è successo in quei due mesi? Andiamo a vedere i numeri in Italia. Andiamo a vedere cosa è successo negli anni precedenti al 2020 e cosa è successo nel 2020. Negli anni precedenti al 2020 tipicamente morivano ogni anno in media 624.000 persone. Nel 2020 ne sono morte 746.146. Un eccesso di mortalità di 122.000 persone. Ma è tanto e poco. C'è stato altre volte nella storia del nostro paese un eccesso così grande? Certo, c'è stato raramente ma c'è stato. Per esempio c'è stato nel 1915 quando addirittura l'eccesso è stato oltre 170.000 persone. Ma l'Italia era stata precipitata nel primo anno della guerra più sanguinosa che l'uomo abbia mai conosciuto. La prima guerra mondiale. E allora alla fine se noi andiamo a vedere questi numeri freddi, inconfutabili. Ci accorgiamo che nel periodo che va dal 1945 al 2020 la mortalità per milioni di abitanti ha uguali soltanto negli anni della guerra rispetto a quella che c'è stata nel 2020. Quindi è stata una tragedia senza precedenti. Insomma alla fine il bilancio drammatico, tragico è che nel periodo che è andato dal primo di marzo del 2020 al 31 luglio scorso sono morti 150.000 italiani più di quelli che noi ci attendevamo. 150.000 italiani. E allora a chi porta quel cartello con scritto 3.783 noi diciamo di cosa sono morti gli altri 146.217? Perché sono morti così tanti italiani proprio nel 2020? Nel 1915 c'era la guerra. Cosa c'è stato nel 2020? Gli infarti e quelli c'erano anche negli anni precedenti. La vecchiaia c'era anche negli anni precedenti. I tumori c'erano anche negli anni precedenti. Quello che c'è stato nel 2020 purtroppo è stato il Covid. E purtroppo in Italia sono morte più di 150.000 persone. Questa è la verità. E tentare di sminuirla per tentare di sminuire i sacrifici terribili che abbiamo fatto. Per tentare di sminuire l'importanza delle precauzioni che stiamo ancora prendendo. E per sminuire l'importanza della vaccinazione che è quello che ci sta facendo uscire da questo incubo terribile che non ha precedenti nella mia generazione. Ecco questo non va bene. E' mancanza di rispetto nei confronti di tutti quei morti. E' mancanza di rispetto nei confronti dei loro cari che hanno patito questa perdita. Ma è mancanza di rispetto anche nei confronti di tutti quelli che hanno subito le conseguenze economiche, culturali, sociali, emotive di questo terribile periodo che abbiamo passato. Sono morti 150.000 italiani almeno. E se adesso ne muoiono molti, molti meno è per due motivi. Per i sacrifici che abbiamo fatto nel 2020 e per le precauzioni e soprattutto per i vaccini del 2021. Questa è la strada per uscirne. Ancora qualche precazione e soprattutto vaccini. Vaccini per quei milioni di italiani che ancora hanno scelto di non farli e che dovrebbero invece vaccinarsi immediatamente. Grazie, professor Burioni.